Con Maurizio Restelli, ex centrocampista viola, parliamo della Fiorentina, dell'attualità viola. Domani la gara con il Genoa, partita difficilissima da preparare. Ma da preparare, come tutte le altre immagino, Montella non penso che faccia grandi distinzioni. Diciamo che viene in un momento particolare, un momento in cui siamo in crescita, un momento in cui gli episodi possono determinare una classifica o viceversa accontentare poi la Piazza Viola in un'altra. Però viene un Genoa agguerrito, viene un Genoa ristrutturato, viene un Genoa con un allenatore che ha portato a fare dei buoni risultati da quando è preso in mano la squadra. E' un Genoa che deve salvarsi ancora, bisogna fare un'ottima partita da Fiorentina, senza pause, giocando come sa giocare. Su questo sono abbastanza sereno, se la squadra riesce a esprimersi come ha fatto negli ultimi tempi, presumo che per il Genoa sia faticoso fare risultato a Firenze. Montella parlando delle ultime dieci gare di campionato ha detto benissimo che la Fiorentina esprima un bel gioco, però serve soprattutto la praticità, la concretezza adesso. Ma sì, infatti sono d'accordo, perché il bel gioco non è sufficiente, si è parlato spesso negli ultimi tempi quando non faceva risultato la Fiorentina, di più cinismo, di più capacità realizzative, di puntare di più verso la porta, cosa che invece abbiamo avuto qualche difficoltà, ma probabilmente era dovuta anche a un fatto fisico, perché noi abbiamo fatto un percorso all'inizio, fino a un certo punto della stagione, dove abbiamo macinato gioco, abbiamo macinato risultati e quindi tutto andava bene. Poi c'è stato un attimo di pausa, che solo degli episodi hanno determinato delle sconfitte, vedi Pescara, vedi qualche altra occasione, nella quale con più attenzione sicuramente, anche stando in affanno fisico, potevamo comunque portare a casa un risultato completamente diverso. Pertanto anche gli episodi hanno un'incidenza. Però direi che questa squadra, se riuscisse il buon Montella a dargli un po' di più cattiveria, secondo me la qualità ormai è indiscutibile e se si riesce a dare quel pezzo di cattiveria in più, secondo me questa squadra per qualche anno ci potrà dare grandi soddisfazioni. Per questo finale di stagione ti senti di scommettere su Aquilani, giocatore che è andato un po' a corrente alternata? Ma per me Aquilani è un grande giocatore, un grosso giocatore, un grosso acquisto anche da parte della Fiorentina. È anche vero che deve trovare continuità. Lui è un giocatore che ha sempre giocato a sprazzi e quest'anno ha trovato un po' di più continuità, è venuto fuori da qualche acciacco. E pertanto dandogli fiducia secondo me è un giocatore che ha centrocampo con Pizzaro e Valero. Insomma ragazzi, centrocampo della Fiorentina, non penso che ce ne siano tanti in Italia, di quella grandezza tecnico-tattica, come si muovono. Ritengo che sia un centrocampo da grande futuro, da grossa squadra. Possibilità per il terzo posto, per la Fiorentina? Ma io non illuderei nessuno, però ripeto, se in quella fase che abbiamo avuto di stallo qualche risultato lo avessimo portato a casa comunque, probabilmente saremo qui a parlare decisamente anche del terzo posto. Ora c'è qualche chance, però me la giocherei, ecco non vedo perché no, me la giocherei tranquillamente senza grandi patemi, perché poi alla fine la squadra è un'ottima squadra. Anche perché poi il 7 aprile c'è lo scontro diretto con il Milan in casa. Esatto, poi abbiamo delle chance a giocarsele, anche se chi parla di calendario facile direi di stare molto cauti, perché i calendari facili quest'anno li eviterei questi discorsi, perché abbiamo visto squadre piccole, squadre grosse, noi per esempio abbiamo giocato bene contro le squadre più grosse, pertanto starei molto attento a queste squadre di bassa rea, perché vengono agguerrite, vengono per salvarsi, vengono per fare bella figura e pertanto ci vuole carattere.